L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal consigliere Andrea Smacchi del Partito Democratico sulla modello assistenziale per la fibrosi cistica in Umbria. La mozione chiede alla Giunta regionale di garantire la completa copertura del servizio infermieristico dei singoli distretti territoriali attraverso l'attivazione di una reperibilità infermieristica notturna e festiva per l'assistenza domiciliare integrata e all'interno di questa per la fibrosi cistica che consenta la somministrazione di antibiotico endovena nelle ore serali e nei giorni festivi. Inoltre si chiede alla Regione di formare attraverso il centro regionale di fibrosi cistica un assistente familiare che possa supportare il paziente nella terapia domiciliare in stretta collaborazione con il servizio infermieristico. In caso di necessità ad esempio per la fuoriuscita dell'ago cannula dalla vena o un malfunzionamento del dispositivo di infusione i pazienti e le famiglie si potranno avvalere degli infermieri del distretto di appartenenza. In caso di estrema necessità al di fuori dell'orario di apertura del distretto i pazienti e le famiglie potranno rivolgersi alla guardia medica.